è in vendita ciao ragazzi come vedete oggi un inizio di race vlog un pelo diverso ma in questo viaggio notturno e mi piace molto appunto vedere di notte perché ti fa ragionare mi rilassa e riesci a ragionare con più tranquillità perché durante questi giorni è tutto un rincorrersi fai questo fai l'altro due giorni fa ero a portimao e adesso sono qui al Mugello comunque tornando a noi quello che volevo fare in questo momento è anche aprirmi un po' perché veramente molte persone pensano che tutto questo sia solo rosa e fiori sia solo divertirsi andare in moto viaggiare visitare posti stupendi ogni volta ed è così ma quando non si ha la predisposizione mentale per mettere il culo sulla moto a 300 l'ora e dare il massimo e mentre si dà al massimo anche godersela perché questo è fondamentale diventa veramente tosta e nelle ultime gare si sono arrivati dei podi nel mondiale fare i primi 15 è comunque molto positivo perché c'è gente che va fortissimo però dentro di te senti che puoi dare di più potresti dare di più ma non ci riesci e questa cosa non ti fa più godere nulla cioè tu vai a fare quello che in teoria ti piace un sacco ma non te lo godi e le gare che dovrebbero essere una festa dovrebbero divertirti e emozionarti soprattutto diventano qualcosa che devi fare e non vedi l'ora che finiscano lo so mi direte del pazzo e direte chi ha il pane non ha i denti e chi non ha i denti ha il pane lo so però purtroppo non posso nascondere questo ma allo stesso modo come ti prende questa sensazione di insoddisfazione e di non divertimento basta una scintilla un risultato e ti fa dire ma allora ce l'ho quel qualcosa dentro posso dare di più posso andare più forte e per me questo croce via è stato l'ultima gara a Portimao dove ero convinto fosse una gara difficilissima dove non abbiamo fatto test dove per il mio braggio sarebbe stato difficilissimo perché come vedete forse non tutti lo sanno ma ho 42 punti a destra e a sinistra per il discorso dell'arm pump per farvela breve dopo pochi giri non ce la faccio più guidare perché il muscolo si sovraccarica di questo problema soffrono molti piloti io nonostante mi è sovverato ho ancora un po' di problemi quindi ero andato lì veramente con poche aspettative ero un po' giù e questo è stato il segreto per approcciare la gara nel modo giusto cioè non con la solita tensione ma con la modalità chi se ne frega e grazie a quello sono riuscito a sedere sulla moto senza più quella tensione che mi toglieva qualità nella guida perché ti senti le gambe molli ti senti che ogni giro che stai facendo è fondamentale e con questa impostazione mentale è impossibile andare fuori e lo sbaglio arriva molto più facilmente vabbè per farvela breve è arrivata la mia miglior gara dell'anno ho tenuto un passo pazzesco ero lì in mezzo ai migliori della categoria il gente con la quale nelle ultime gare combattevo è arrivata a 12-13 secondi dietro di me una vita e quindi vedete in ogni cosa dallo sport alla vita in generale basta quella scintilla per cambiare tutto adesso sono qui al Mugello non vedo l'ora domani di salire sulla mia moto di iniziare con le prove libere e di gustarmi questa fiducia finalmente ritrovata con il mio mezzo non so che ora è per voi mentre state guardando questo video ma io adesso mi riposo perché domani devo scannare e iniziare il weekend al meglio e quindi via Mugello da un 4 campionato italiano ciao 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 Ahahahah Bene ragazzi come avete visto c'è stato un piccolo contrattempo Bandiera rossa in queste libere quindi abbiamo girato veramente pochissimo E soprattutto ci hanno bloccato sul nostro giro buono perché eravamo su un 52.7.8 Che ci avrebbe permesso di stare tra la seconda e terza posizione Quindi oggi va così ma speriamo che non succeda domani nelle qualifiche Il passo è veramente buono Ci manca ancora un po' di giro secco per riuscire a partire in prima fila Ma mi sto divertendo come un pazzo guidare il BMW in questa pista pazzesca È un qualcosa di veramente magico oserei dire Adesso vado a mangiarmi il mio bel pollettino che mi aspetta Si riposa bene e domani si punta a un 51 alto con la gomma da qualifica разбiare il c'è, bicicletta filtere a fuori Grazie a tutti 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 Bene avete visto come sono andate le qualifiche purtroppo ci hanno fregato di tanto così all'ultimo giro utile però è stato il mio giro più bello fatto qui al Mugello 1.51.6 Io ho dato tutto quello che potevo ma vi devo dare una info molto importante a qualcuno potrebbe interessare e adesso ve la faccio vedere perché la mia bimba che ho usato quest'anno nel mondiale stock è in vendita 35.000 euro per portarvi a casa da Belva ha fatto 1.51.6 al Mugello quindi non avete più scuse 35.000 se vi interessa scrivetevi scrivetevi nella mia 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 mi raccomando e adesso facciamo un po' di notaripone un po' facciamo finire la colina in bocca ma vorrete sapere anche un po' di dettagli tecnici di quello che andrete a comprare quindi vi porterete a casa un BMW S1000RR 2018 con elettronica factory quindi col taglio di corrente e non con l'apertura farfalla quel famoso suono che a voi vi fa tanto godere motore in configurazione stock 1000 quindi siamo sui 210 cavalli 175 kg di peso con l'elettronica che vi ho detto prima avrete ovviamente dashboard e tutto quello che ne concerne blocchetti eccetera eccetera Hollins full engage all'anteriore come cartuccia Hollins TTX al posteriore ovviamente blipper sia in scalata che in accelerazione quindi userete solo la frizione per partire e basta adesso ti rimane solo che girare in 51 e mezzo al Mugello attrazione 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 Grazie per la visione!